E' un piacere, un onore per me dopo tanto tempo che sono rimasto qui a Napoli dalla nascita tra Capri e Napoli quindi questa cosa mi sembrava, non dico un atto dovuto, però mi ha fatto immenso piacere quando poi se ne so accorto e ho detto ah finalmente è arrivato il momento quindi ho accettato volentieri questo invito, respirare l'aria di casa propria, secondo me non c'è cifra, non c'è promozione che tenga Io direi che è un patrimonio italiano, quindi in qualche modo noi vogliamo testimoniare soprattutto questo cioè che siamo orgogliosi, fieri e riconoscenti di avere tra coloro che appunto cantano la lingua e i sentimenti che sono l'anima di questa nostra città, di avere appunto quello che possiamo definire al di là delle radici però qualcosa che dalle radici veramente è diventato mondiale La medaglia della città di Napoli a Peppino di Capri in occasione dei 60 anni di carriera che saranno celebrati anche sabato prossimo con un concerto al Teatro di San Carlo sarà un bis dopo il tutto esaurito del primo nel maggio scorso Peppino di Capri è reduce da un tour in America Latina ed è pronto già a ripartire per una nuova tournée in Brasile Ci sono quella dei tentativi di generi un po' per essere forse al passo con le mode e cose così però noi non dobbiamo temere niente e nessuno perché abbiamo un patrimonio talmente forte che ci rappresenta in tutto il mondo quando si parla di Italia si parla dei classici napoletani, i tenori, per avere il loro successo finale a fine serata sparano i nostri grandi successi di fine ottocento, primi novecento e si assicurano l'applauso finale, la standing ovation per cui questa cosa vuol dire che abbiamo una base solida che nessuno ci potrà mai togliere Siamo contenti di dare un riconoscimento importante a un maestro della musica napoletana 60 anni di carriera, la targa e la medaglia della città Napoli nella storia, nella tradizione, oggi nell'innovazione è sempre di più città della cultura e città della musica quindi siamo su questa linea ormai consolidati da tempo Grazie a tutti